guarda che quando apri che prende il primo mezzo centimetro poi va e non si ferma anche se frizioni è accesa posso provarla posso provare allora perché se l'istruzione per l'uso assicurato è staccato la spese questo è libero e se fai così si attiva il freno quello rigenerativo con di essere già desa la frizione e fai fatica mica scappa e poi c'è la frizione proprio si ti perso le dita che sensazione strana però troppo fai fatica a capirla o niente o tutto di colpo cazzo e vedi che si ferma e che se non te l'aspetti ti spara fuori boh non lo so non è che mi convince tanto che la mia già è diversa dalla tua che la mia è già più lenta eppure va a fare i doppi così grazie ma ti posso dire che secondo me è meglio sul rosso che su due perlomeno è immediata e ferma è rosso adesso profondo rosso è davanti così guarda che è cattivo che è pieno di gioco oh yes grazie 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 a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.